Sì, non lo vuoi più. Sì, è una fiora di rossa. Abbiamo due tipi di fiora di rossa. Uno bianco e una roda. La roda più l'altro è più grande. Questo qua è molto... ...perdicevo che la mia gana, anche qui, ragazzi. Perché ci sono più bene, anche se ci sono molto roda. E...